Grande successo per la cerimonia alle fonti Day & Night tenutasi lo scorso giovedì 8 novembre a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata, introdotta da un keynote speech del noto giornalista e scrittore Alan Friedman, ha visto lo svolgersi di tre tavole rotonde dove esperti del settore si sono confrontati riguardo alle sfide delle Char Manager 4.0, l'evoluzione del lavoro nel terzo millennio, il Jobs Act e il Decreto Dignità. La sera ad aprire la cerimonia di premiazione è stato il CEO Summit dal titolo Innovazione e Leadership, come competere in un mondo che cambia. Il dibattito moderato dalla giornalista Deborah Rosciani ha coinvolto esperti che hanno disquisito sulle principali tematiche del settore e le sfide che questo sarà chiamato ad affrontare. L'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, strutture prefabbricate, il premio viene assegnato a Manini Prefabbricati, per essere leader nel settore della prefabbricazione di strutture industriali da oltre 50 anni, per saper coniugare l'attenzione per le risorse umane e la cura del dettaglio all'innovazione tecnologica. Come testimonia Manini Connet, rivoluzionario sistema di monitoraggio dei prefabbricati in ottica di Industria 4.0, che poi è stato anche il tema della tavola rotonda del CEO Summit questa sera. Complimenti, complimenti davvero. Siamo in compagnia dell'ingegner Manuel Boccolini, CEO di Manini Prefabbricati. Buonasera e benvenuto. Ecco, la vostra azienda si è giudicata i Le Fonti Awards 2018 come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, strutture prefabbricate. Le chiedo anzitutto un commento per questo riconoscimento. Primo pensiero, subito un grande orgoglio di poter essere amministratore delegato di questa azienda che ha fatto dell'innovazione il suo faro. Voglio dedicare questa vittoria a chi ha sempre puntato all'innovazione all'interno della nostra azienda, che è il nostro fondatore e presidente, il cavaliere Arnaldo Manini, che ha saputo sempre trasferire questa voglia di migliorarsi, di migliorare e di innovare non solo il prodotto ma i processi e di alzare sempre l'asticella e questa, secondo me, la chiave per superare le crisi e essere sempre in prima linea sul mercato. Ecco, la vostra società è espressione del modello industria 4.0. Avete puntato ad esempio su Manini Connect, ma ci tenete anche a sottolineare che tutto parte comunque dalle persone. Le chiedo se è questa la formula vincente per oltre 50 anni di attività. Credo sicuramente che sia la chiave del successo la condivisione con le risorse umane. Voglio fare un esempio. C'è la famosa storia dei tre spaccatori di pietre. Una persona si avvicina a queste tre persone che spaccano le pietre e gli dice tu che cosa fai? Il primo risponde io spacco le pietre. Il secondo dice sto preparando a costruire un muro. Il terzo dice stiamo costruendo una cattedrale. La chiave del nostro successo è quella di condividere con tutti gli interlocutori, gli stakeholders, ma anche i dipendenti e le maestranze quali sono i nostri obiettivi. Noi ogni anno facciamo una convention dove spieghiamo ad esempio il Manini Connect, che è un sistema molto importante di monitoraggio degli edifici che ahimè ad oggi è ancora più sulla cresta dell'onda, anche per i tragici eventi che abbiamo purtroppo visto. Questo l'abbiamo condiviso con tutti, facendo capire dove stiamo andando a tutte le persone coinvolte nel nostro processo sia in maniera diretta sia in maniera anche marginale. Questo crediamo che sia una cosa importantissima. Un altro aspetto che mi preme sottolineare in un ambito digital transformation, siamo in una completa rivoluzione, è un metodo che noi abbiamo chiamato il metodo Barcellona. Questo perché una sera guardando una partita del Barcellona io e il presidente, il presidente non capisce niente di calcio ma è una persona intelligente, vedeva questa squadra e mi diceva che armonia che c'è in quel gioco e io gli ho detto la chiave del Barcellona è di avere una cantera, cioè di avere un vivaio di giovani che vengono a due a due inseriti all'interno di una squadra e quando un giovane gioca con Messi o con Iniesta sicuramente migliora. Partendo da questo noi abbiamo messo a fianco di senior all'interno dell'ufficio tecnico degli junior. I senior hanno un grande know-how ma non hanno la padronanza dei nuovi strumenti che invece hanno gli junior e allora con questo processo abbiamo fatto alcune prove di tre o quattro coppie e abbiamo visto che alla fine è migliorato notevolmente lo junior e era inevitabile questo, era l'obiettivo, ma abbiamo riscontrato anche un grosso miglioramento dei senior e quindi è la classica situazione che in inglese si dice win-win e c'è stato un trasferimento bionivoco di una serie di informazioni che hanno portato al miglioramento globale del nostro ufficio tecnico e un processo che stiamo ripetendo in altri settori. L'ecosostenibilità è un altro fattore chiave per voi e quanto potrà influenzare le scelte dell'edizia industriale nel futuro questo fattore? A mio avviso deve, deve influenzarle, è un aspetto determinante. Noi come manini prefabbricati siamo sul pezzo con progetti che riguardano i tetti verdi, progetti che riguardano la bioedilizia come materiali ma anche come finiture e è determinante però capire che l'ecosostenibilità è un qualcosa che va a vantaggio di tutti. Noi puntiamo a costruire bene, io odio la parola cementificazione perché è una parola dispregiativa. Bisogna costruire in maniera corretta e con pianificazione. C'è un patrimonio edilizio da riqualificare, da demolire e ricostruire con edifici molto più prestazionali ma incredibilmente più prestazionali rispetto agli edifici, al patrimonio edilizio che abbiamo oggi. Quindi bisogna fare un vero piano di riqualificazione edilizia e noi siamo pronti, speriamo, di avere dei prodotti che possano essere utilizzati anche grazie a incentivi che permettano ad imprenditori illuminati comunque di intraprendere una strada che ovviamente all'inizio deve essere un po' aiutata anche dall'esterno.